È stato arrestato nel tardo pomeriggio di sabato scorso per resistenza pubblico ufficiale Fabio Di Monte, tiktoker monzese noto per le sue denunce di situazioni di degrado e di servizi sul territorio. Se non venite, vengo io con una pistola, sono le parole che avrebbe pronunciato il 46N nel richiedere l'intervento della polizia, riferendo di essere stato aggredito da una dozzina di spacciatori all'interno di un bar di Monza, mediante l'utilizzo di una bottiglia di vetro. Arrivati sul posto, però, gli agenti hanno constatato che l'aggressione non era mai avvenuta con Di Monte, che avrebbe iniziato a cambiare versione dei fatti, facendo riferimento a un presunto attacco subito qualche giorno prima. Già noto nel locale per aver disturbato più volte la clientela in condizioni di alterazione psicofisica dovute al consumo di alcol, l'uomo, denunciato per procurato allarme, ha cominciato a urlare contro gli agenti, venendo accompagnato in questura. In seguito, la polizia si è recata assieme all'uomo presso la sua residenza per verificare l'effettivo possesso di armi, rischio scongiurato poi dai controlli. Ma per tutto il viaggio, Di Monte avrebbe iniziato a prendere a calci il vetro divisorio dell'auto della polizia, continuando anche con sputi e insulti, una volta arrivati alla sua abitazione per le verifiche, venendo così arrestato. Arresto confermato lunedì con giudizio direttissimo, già fissata l'udienza per il giudizio abbreviato. Numerosi precedenti dell'uomo, uso di sostanze stupefacenti e spaccio, rapina, porta abusivo di armi, omissioni di soccorso a seguito di incidente, truffa, lesioni, frodo informatica, furto, minaccia e atti persecutori.